Recentemente, Barbara D'Urso è stata al centro dell'attenzione mediatica per la sua partecipazione come ballerina per una notte nel noto programma televisivo Ballando con le stelle. La sua apparizione ha suscitato curiosità non solo per il suo ritorno sulla pista da ballo, ma anche per le voci che circolavano riguardo al cachet percepito dalla conduttrice. Secondo indiscrezioni diffuse da D'Agospia, Barbara D'Urso avrebbe incassato ben 70.000 euro per esibirsi in due brevi coreografie, una salsa e una baccata. Questa cifra, ritenuta sorprendentemente alta, ha generato non poche polemiche nel pubblico e tra i media, poiché rappresenterebbe un compenso decisamente sopra la media per una breve performance. Tuttavia, Millie Carlucci, conduttrice storica di Ballando con le stelle, ha prontamente smentito questa voce. Durante un'intervista a TV Talk, ha dichiarato che il compenso riportato dai media è assolutamente falso e che la produzione del programma non avrebbe mai investito una somma così ingente per una semplice partecipazione di una sera. Carlucci ha persino scherzato, dicendo che, magari, potessero permettersi di spendere simili cifre, sottolineando che la realtà è ben diversa. Nonostante la smentita, le indiscrezioni hanno continuato a fare il giro del web, accendendo ulteriormente l'interesse verso il ritorno di Barbara D'Urso su Rai 1. Dopo anni di successi in Mediaset, culminati con la conduzione di Pomeriggio 5, il 2023 ha segnato la fine della sua collaborazione con l'azienda di Cologno Monzese. Questo ha portato a speculazioni su un suo futuro ritorno in grande stile sulla Rai, con ipotetici progetti per il 2025, inclusi nuovi programmi in prima serata e forse anche una presenza fissa nel palinsesto quotidiano. La partecipazione di Barbara a Ballando con le stelle, oltre a essere stata un momento di intrattenimento, sembra anche aprire nuove prospettive per la sua carriera televisiva. L'esibizione della D'Urso è stata caratterizzata da una salsa sensuale e una bacata che hanno evidenziato non solo la sua presenza scenica, ma anche la sua voglia di mettersi in gioco in un contesto diverso da quello a cui il pubblico era abituato. Il pubblico italiano sembra essere rimasto diviso. Da un lato, c'è chi applaude la versatilità della conduttrice e la sua capacità di reinventarsi. Dall'altro, c'è chi critica l'eccessivo risalto mediatico dato a una partecipazione di una sola notte, soprattutto se accompagnata da cifre ipotetiche così elevate. Anche se le cifre del cachet sembrano essere state esagerate, la partecipazione di Barbara D'Urso rimane uno degli eventi più discussi della stagione televisiva. In conclusione, sebbene le polemiche sui compensi siano state prontamente smentite dalla produzione, il ritorno di Barbara D'Urso sul piccolo schermo attraverso Ballando con le stelle ha certamente risvegliato l'interesse dei telespettatori, lasciando aperti molti interrogativi su quali potrebbero essere i prossimi passi della sua carriera televisiva. Se questo video ti è piaciuto e vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime novità riguardo Barbara D'Urso, Ballando con le stelle e molto altro, non dimenticare di iscriverti al canale. Attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessun contenuto. Ogni settimana pubblichiamo nuovi video con analisi, gossip e approfondimenti sul mondo della televisione italiana. La tua opinione è importante, quindi lascia un commento qui sotto per farci sapere cosa ne pensi. Grazie per il supporto. Grazie per la visione.